Casa Savoia, una dinastia millenaria Le origini La Casa Savoia è una delle più antiche dinastie d'Europa, le cui tracce risalgono alla fine del X secolo nel territorio del Regno di Borgogna. La leggenda narra che il capostipite, Umberto I Biancamano, discendesse da un antico lignaggio germanico, i Welfen. Nel secolo successivo, la famiglia ottenne il controllo della Contea di Savoia, situata tra le Alpi Occidentali e il Lago di Ginevra. L'ascesa al potere Nel corso dei secoli, i Savoi ampliarono gradualmente i propri territori, grazie a fortunate congiunture dinastiche e abili manovre diplomatiche. Nel 1416, il conte Amedeo VIII ottenne l'elevazione della Contea a Ducato, rafforzando il prestigio della famiglia. I ducchi di Savoia si distinsero come abili politici e strateghi militari, tessendo alleanze con le principali potenze europee. Il Regno d'Italia Nel XIX secolo, i Savoi assunsero un ruolo di primo piano nel processo di unificazione italiana. Sotto la guida di Vittorio Emanuele II e del suo abile ministro Camillo Benso Conte di Cavour, il Regno di Sardegna guidò le guerre d'indipendenza contro l'Austria e il Lombardo Veneto. Nel 1861, Vittorio Emanuele II venne proclamato primore d'Italia, sancendo l'ascesa della Casa Savoia al vertice della Nazione Unita. L'epoca monarchica. Il Regno dei Savoia in Italia durò per quasi 60 anni. Fu un periodo caratterizzato da profondi cambiamenti politici, economici e sociali. La monarchia sabauda contribuì allo sviluppo del paese, favorendo la modernizzazione delle infrastrutture, l'industrializzazione e l'istruzione pubblica. Tuttavia, non mancarono le tensioni e le contraddizioni, come le disparità sociali e le repressioni dei movimenti di protesta. Nel 1946, a seguito del referendum istituzionale, l'Italia divenne una repubblica. La Casa Savoia venne esiliata dal paese e i suoi beni confiscati. Le ragioni del crollo della monarchia furono molteplici. L'impopolarità del re Umberto II, il discredito causato dalla collaborazione con il regime fascista e la diffusa aspirazione ad un sistema, democratico più rappresentativo. L'eredità dei Savoia. La Casa Savoia ha lasciato un segno indelebile nella storia d'Italia. La dinastia sabauda ha contribuito all'unificazione del paese, alla sua modernizzazione e al suo sviluppo economico. Il suo regno è stato però anche caratterizzato da contraddizioni e tensioni. Ancora oggi, la figura dei Savoia e il loro ruolo nella storia italiana sono oggetto di dibattito e di diverse interpretazioni, oltre la monarchia. Dopo l'esilio, i membri della Casa Savoia hanno continuato a vivere in diverse parti d'Europa. Emanuele Filiberto di Savoia, figlio dell'ultimo re d'Italia, ha tentato in vano di rientrare in Italia e di restaurare la monarchia. Tuttavia, la Repubblica italiana ha sempre negato il ritorno dei Savoia e il loro eventuale diritto al trono. Conclusioni. La Casa Savoia rappresenta una delle dinastie più longeve e influenti della storia europea. Il suo regno in Italia ha avuto un impatto significativo sul destino del paese, contribuendo alla sua unificazione e al suo sviluppo. Nonostante il crollo della monarchia, l'eredità dei Savoia rimane ancora oggi oggetto di dibattito e di interesse storico. Alcune figure di rilievo, Umberto I Biancamano, capostipite della dinastia. Amedeo VIII, primo duca di Savoia. Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia. Umberto I, re d'Italia durante l'epoca del colonialismo. Vittorio Emanuele III, re d'Italia durante la prima guerra mondiale e il fascismo. Umberto II, ultimo re d'Italia. Eventi significativi, 1416, elevazione della contea di Savoia a Ducato. 1848, promulgazione dello statuto albertino. 1861, proclamazione del regno d'Italia. 1946, referendum istituzionale e crollo della monarchia. Luoghi simbolici, castello di Sciamberi, residenza storica dei ducchi di Savoia.